E allora il tecnico dell'Enel, Baskett Brindisi, naturalmente amareggiato per questa quarta sconfitta, ma al tempo stesso lucidissimo nell'analisi dei fatti e soprattutto delle scelte sul campo. Sentiamo, Buchi. Una buona partenza. Poi a un certo punto sembrava fuori gioco l'Enel, un recupero prodigioso con le seconde linee per una scelta molto significativa da parte tua. Com'è andato? Sì, direi che hai fatto un riassunto azzeccato. Ho partito bene, poi qualcuno ha pensato che si potesse fare meno di difendere e ho dovuto fare scelte drastiche. Che ha pagato? Sicuramente che ha pagato. Dopo ho dato più spazio agli italiani e è un segnale che ho avuto dare alla squadra perché in questo momento c'è bisogno di difendere, c'è bisogno di capire che bisogna difendere come si faceva fino a un mese fa. Sono quattro sconfitte nelle quali effettivamente la difesa ha fatto molta fatica. Ho dato questo segnale anche a Pesaro. Ci vuole comunque che tutti capiscono che questa è la strada, sennò ovviamente diventa più difficile. Non è più come l'inizio del campionato, bisogna adeguarsi alle difficoltà del momento e quindi ci vuole maggior sacrificio. Chi è disposto gioca, chi non è disposto viene a sedere. Abbiamo rivisto Zerini. Il solido Ondoia, Fulsa sempre meglio e non è solo una scelta da parte tua, ma è una realtà a questo punto. Zerini ha giocato perché Antoine è diventato a un certo punto evanescente. Allora sai, ho dato spazio agli italiani, era giusto che provassero anche a Zerini. In questo momento Antoine ha fatto una buona parita a Pesaro, secondo me. Viceversa si era a certo punto e sparito, quindi ho preferito dare la possibilità anche a Andrea di andare con tutti gli italiani che hanno messo effettivamente cuore. Forse hanno un po' meno di talento, un po' meno di atletismo, però penso che hanno capito come interpretare le partite da adesso in avanti. Quindi chi sarà disposto a sacrificarsi giocherà di più. Quarta sconfitta consecutiva. Non è da Enel in questo bellissimo campionato, vogliamo sottolinearlo ancora una volta, i tifosi ci sono rimasti male, una involuzione che tu hai in qualche maniera interpretato e analizzato. C'è un bel pezzo di campionato da giocare. Che cosa succederà, Piero? Che in questo momento qua la squadra deve capire qual è la strada a intraprendere. Stasera ha dato un segnale preciso, credo, a chi non aveva voglia di difendere o di sacrificarsi. Quindi se vogliamo ancora divertirci, ci vuole spirito di sacrificio. E chi ha disposto a giocare, chi ha disposto a seduto. Ti è arrabbiato? No, mi dispiace perché fino a un mese fa la squadra aveva fatto veramente belle cose. Adesso è un peccato perché c'è stato forse, dopo Cantuni, involontario, non a pagamento, ma a rilassamento. E quando questo accade è poi molto più difficile perché gli altri hanno continuato a progredire. Noi ci siamo fermati. Qualcuno ha pensato che fosse fatta dal punto di vista della stagione. Qualcuno forse anche non è abituato a stare via lontano da casa per tanto tempo. Però in questo momento io devo fare delle scelte quindi di conseguenza. Chi ne ha ancora voglia gioca, chi non ha più voglia, che poi non è esagerata l'espressione voglia. Chi se la sente di adeguarsi alla difficoltà del momento, bene. Chi non riesce, starà più seduto. Il doppio duro all'interno non facile, Avellino, Reggio Emilia? Non facile, però credo che quello che è successo è qualcosa di involontario. La volontà dei ragazzi, sono sicuro anche di quelli che sono più in difficoltà e di ripartire. Quindi sono fiducioso per le prossime gare.